questo nuovo video adesso destinazione oggi passo mortirolo siamo qua già edolo abbiamo fatto spesa perché andremo a fare una tendata per aspettare il giro d'italia che passerà domani dal mortirolo salita storica del giro d'italia quindi ottimo e vediamo un attimo adesso andiamo su vediamo se c'è posto ho detto salita storica e mi sa che ci sarà già un bel po di gente nonostante sia sabato alle 9.45 ragazzi quindi arriveremo sulle 10 un quarto più o meno anche prima manca manca poco quindi eccoci qua ragazzi all'imbocco del passo del mortirolo eccoci qua ragazzi passo mortirolo che domani affronteranno i nostri i nostri eroi dal giro d'italia oppala 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 vai e si sale ragazzi passo davvero molto duro da affrontare in bicicletta da ex ciclista me lo immagino non ho mai fatto però ho fatto altri passi e sicuramente in bici ragazzi non è una passeggiata ma va che bello va che bello ecco qua i palloncini rosa il giro d'italia ragazzi stanno imbardando tutto di rosa spettacolo passo mortirolo ragazzi qui c'è ragazzi strada un po' umidice ragazzi però davvero bella non vorrei dire ma mi sa tanto che l'hanno riasfaltato che spettacolo zona tornati qua ragazzi c'è ragazzi Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Buongiorno. 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 Buongiorno.